Credo che questi eventi siano molto importanti dal punto di vista comunicativo, perché consentono di diffondere riflessioni su questo problema e, come dire, associare diversi partner diversi, quelli che abbiamo visto oggi, cioè Altro Consumo, Google, IAIC e la Polizia Postale. E credo che i concetti più importanti siano quelli che sono emersi da questo dibattito, e cioè le regole, riflettere sulle regole, capire se devono essere nazionali, internazionali, tecnologiche o giuridiche. Ancora, riflettere sull'effettività delle regole, quindi chi le fa eseguire, quale giudice, quale polizia, in quale Stato, una volta che siano stati emessi dei provvedimenti in un altro Stato. E infine, riflettere sulla consapevolezza e sulla comunicazione. La consapevolezza è certamente un elemento che manca oggi, sul quale bisogna molto lavorare, così come quello della comunicazione verso gli utenti.